Musica Buongiorno a tutti, siamo qui numerosi e iniziamo subito ringraziando l'ospitalità e la collaborazione dei padri guanelliani in particolare adesso passo la parola al Rettore Don Giancarlo Frigerio che ci dirà due parole anche del come mai questo incontro avviene qui in un luogo per definizione di accoglienza, grazie Prima di tutto vi ringrazio perché siete veramente numerosi e non ci aspettavamo così tante persone io sono Don Giancarlo, sono arrivato Don Giancarlo Frigerio sono arrivato qui in questa casa dell'Opera Don Guanella da soli due mesi quindi anch'io sto cercando di conoscerla, di capirla anche perché vengo da un'esperienza di 30 anni di Africa quindi io vi ringrazio anche a nome della comunità della Casa Divina Providenza la comunità religiosa, gli ospiti eccetera grazie per questa occasione e per questo evento grazie anche a te siccome siamo in collaborazione qui anche con il Banco di Solidarietà do subito la parola alla Presidente Sonia Bianchi grazie, buonasera a tutti perché il Banco ha aderito oggi a questo evento? innanzitutto per un'amicizia con Laura e con il Centro Culturale Paolo VI che è da anni che ci conosciamo e ci frequentiamo in modi diversi in situazioni a volte un po' occasionali però è proprio per un'amicizia e in secondo luogo perché Don Roberto io l'ho conosciuto quando è appena arrivato a Comune nella parrocchia di San Rocco dove avevamo la prima sede del Banco di Solidarietà l'abbiamo iniziato a conoscere lì come Banco poi di fatto non ci sono state tante occasioni di incontro se non questo iniziale e poi quando ha iniziato il suo apostolato con i più fragili abbiamo avuto occasione di rincontrarci in quanto noi come Banco sosteniamo le famiglie in stato di indigenza del territorio comasco sono più di 400 famiglie che assistiamo e 50 famiglie ucraine per cui la nostra mission è quella di dare generi alimentari quindi con Don Roberto poi si era instaurato ho riniziato a instaurare un rapporto in questo senso ma quello che mi colpisce di più dell'esperienza del Banco e dell'esperienza anche di Don Roberto è proprio questo avvicinarsi alle persone in quanto si condivide insieme un percorso di vita il nostro slogan del Banco è condividere i bisogni per condividere il senso della vita non è condividere il bisogno alimentare che è la nostra mission ma fra noi volontari e fra le famiglie si instaura questo rapporto di amicizia come con tutte le persone che incontriamo questa voglia di essere amati di essere voluti bene a prescindere dalla nostra condizione di vita del momento in cui ognuno di noi si trova e per il motivo per cui si trova nel stato di fragilità ma che può essere sia del volontario che anche della famiglia racconto solo un ultimo aneddoto per farmi capire cosa vuol dire cosa lega anche l'amicizia fra la Laura e l'Anna e anche l'Alberto il nostro volontario è arrivato al Banco per un servizio socialmente utile e molti vengono fanno le duecent'ore e poi spariscono e quest'uomo l'altro giorno mi ha detto che lui era ateo non credeva niente che ha sempre avuto sfortune e infatti era al Banco a fare un lavoro socialmente utile però ci ringraziava ha detto è la prima volta che la mia vita ha un senso e che qui ha trovato un senso e ha portato anche il suo papà a fare il volontario che ha 70 anni perché è solo e quindi dice al Banco può trovare un luogo dove condividere un po' del suo tempo dove dare un significato alla sua vita ecco il Banco è questa cosa qui condividere i bisogni e penso che è quello che ci accomuna con Don Roberto e con Zef quindi io ringrazio di questa opportunità e ringrazio soprattutto l'Alberto per la sua insistenza nel chiedermi di partecipare sapendo che sono un po' resti a volte nell'uscire di casa anch'io però è proprio questo senso di essere voluti bene che ci tiene insieme grazie a tutti grazie questi interventi di Don Giancarlo e di Sonia hanno proprio già creato riceduti dai canti ma hanno già creato il clima giusto cioè siamo già diciamo orientati a non sentire una storia strana può sempre piacerci incontrare qualcuno che ci racconta qualcosa di diverso che ci colpisce ci tocca il cuore ma c'è qualcosa di più c'è un coinvolgimento nel quale siamo già inseriti c'è una storia comune anche quando non ha dei fili io non so se avete visto c'è stata più di mezz'ora man mano che voi arrivavate e facilmente mi lanciavo a salutare e anche Zef stessa cosa c'è una confluenza di storie che ci permette di condividere perché ecco tutti siamo carichi di bisogni tutti di ferite tutti c'è chi più chi meno a nostro modo ma sicuramente abbiamo in comune anche la strada che possiamo percorrere per trovare una liberazione e oggi parleremo soprattutto di questo prendo spunto per l'inizio dal fascino che ci ha indicato Don Giancarlo quando diceva che la vita è metafora di un viaggio anche questo appartiene a tutti noi e per Zef è stato proprio diciamo l'input che gli ha dato anche l'idea del racconto perché parte niente meno che da citare Dante col suo viaggio perché si è trovato anche lui nel mezzo del cammino di nostra vita adesso però partiamo da quella circostanza che più ha dato il via a una consapevolezza di essere sia bisognosi che in cammino inizia il viaggio intanto grazie e essere qui con voi è una gratitudine per me come diceva Giancarlo io gioco in casa perché vivo nella casa Don Guanela a Barza di Ispra che poi alla fine vi racconto cos'è e gioco in casa perché Don Roberto passava spesso qui quindi mi sento di percorrere un po' anche i luoghi che frequentava lui e poi una gratitudine in vedervi tutti insieme qui cos'è che ci unisce insieme col bisogno che dici tu niente io sono finito in carcere nel 2005 e come dico sempre quando si apre le porte del carcere vieni spogliato da tutto ciò che uno ha e ti vengono chiuso dietro le spalle le porte anzi il portone grosso di 10 metri e ti viene in mente Dante e quando dice lasciate ogni speranza voi che entrate quindi perdi ogni speranza quindi è proprio questo io adesso finito in carcere dopo 22 anni ma poi i crisi della vita non sono mai mancati per rispondere alla domanda che Laura dice che a un certo punto come scrive Dante e poi nella Bibbia si ripete la vita è 70 80 per i più robusti io a 35 anni più o meno Dante dice nel mezzo del cammino di nostra vita quindi anche io ero metà circa per cui mi trovo aver smarito la via mi trovo in un luogo buio ma con un desiderio di luce di verità con un desiderio che mi ha fatto scoprire che quella speranza che pensavo di averlo già perso all'inizio quello che dicevo c'era già mi stava accompagnando ero nello sguardo di qualcuno non so se è questa la domanda sì dico due parole per chi non sa nulla di Zef due due uno la tua partenza dall'Albania se vuoi aggiungere poi tu aggiungi perché Zef ha 17 anni inizia il viaggio sul gommone cose che ci possiamo immaginare a proda in Italia inizia a lavorare onestissimamente tutto bene finché qualche cosa non va per il verso giusto e Zef si trova intrappolato tante cose che non possiamo raccontare c'è il libro giusto e in questa caduta si trova prima nel carcere di Bergamo e poi nel carcere di Como che è il peggio del peggio cioè siamo a Como spiace dire ma lui lo definiva come lo definisci? Carcere spazzatura carcere spazzatura per cui una condizione veramente di grande amarezza che tuttavia apre la strada a questa consapevolezza che avere un bisogno è tutta riconoscerlo riconoscere le proprie ferite è tutt'altro che una disgrazia anzi è l'inizio di qualcosa di veramente nuovo è come quando lui dice nel buio ma con un desiderio di luce quando si arriva a questa consapevolezza è un po' come iniziare ad attendere qualcosa aprire lo sguardo e a lui è successo questo proprio nel posto meno adatto allora lì davanti a me c'è scritto sta lontano da me sono un peccatore quindi la frase di San Pietro che dice a Gesù e io potrei dire stessa cosa e tante volte io l'ho detto a Gesù sta roba qua è solo che più gli dicevo di star lontano che più mi stava vicino quindi come dicevo prima sono stato arrestato nel 2005 e finisco nel carcere di Bergamo e ho preso un po' tutto con la rabbia perché non riconoscevo il reato per cui ero accusato e siccome Dio ti sta vicino ma che se non lo vedi lui continua senza toccare la libertà dell'uomo perché lui può tutto tranne toccare la libertà dell'uomo vuole uomini liberi che lo amano non vuole uomini costretti mi ricordo che io odiavo tra virgolette chi aveva collaborato con la giustizia diciamo o meglio chi aveva inventato delle cose perché chi diceva la verità va bene ma chi inventava delle cose pur di scavalcare un po' la galera e questi collaboratori di giustizia mi ero fissato nel carcere di Bergamo dove li vedevo io andavo litigare con loro mi ricordo che incontro per la prima volta un povero Cristo e mi dico guarda questo qua ha collaborato vado gli do due tre pugni a questo povero Cristo veramente perché mi sa che non ci tra proprio niente e la cosa strana che neanche due ore dopo questo qua viene e mi dice io Zè vorrei abbracciarti perché tu non sei il male che hai fatto adesso non so chi ma possiamo scommettere tutti chi è disposto a fare una cosa del genere vabbè tra sei mesi tra un anno le cose cambiano ma all'istante mentre uno ha la faccia gonfia esce sangue del naso e lì un'ora dopo viene e vorrebbe abbracciarti però se non hai fatto un cammino quello che diceva anche Giancarlo quello che dicevano un po' tutti se non hai fatto un cammino non sei neanche disposto ad accogliere questo abbraccio io mi ricordo allontano questo ragazzo e dico guarda vai via se no te li do ancora mi ricordo che stavo uscendo dalla cela per andare in doccia le docce in fondo al corridoio non c'era e torno in cela senza fare la doccia perché c'era qualcosa che aveva toccato il mio cuore c'era qualcosa anche se non sapevo dare il nome mi stava dicendo che tu non sei fatto per quel male lì torno in cela e raccontai al mio compagno di cela e lui mi dice ma sì ma lascia stare perché anche nella vita normale non solo in carcere incontriamo tanti che dicono ma sì ma lascia stare incontriamo pochi veramente quelli che gli dicono fermati un attimo pensa cosa ti è successo mi ricordo che quella sera io non ho dormito non ho chiuso l'occhio non per la mia bravura ma per il cuore perché il cuore non può essere macchiato da niente io posso fare tutti i peggiori crimini del mondo io ma il mio cuore no perché il mio cuore è un pezzettino di Dio e questo non può essere mai e poi mai macchiato dalle cavolate perché ogni volta che facevo delle cavolate batteva mille mi stava dicendo che tu non sei fatto per questa roba qua tu vali molto di più e dopo questo casino vengo trasferito nel carcere di Como da Bergamo a Como a Como mi portarono perché portavo tutti quelli che si comportavano male nei carceri in Italia e in Lombardia soprattutto quelli che rompevano le scatole carcere di confine carcere di Como li portiamo lì lì sbatto la testa uno peggio dell'altro e ho sempre detto che ma poi questo l'ho capito dopo che dove gli uomini pensano di condannarti Dio ti salva cioè per gli uomini ero buttato in un sacco di spazzatura o meglio carcere spazzatura come lo chiamo io Dio viene e ti prende dice no no tu non sei per stare lì io vengo e ti prendo e poi da lì c'è stato poi il primo incontro ma do la parola alla Laura perché Zef giustamente come vedete dice Dio ti salva però avrete già capito che non ha avuto una visione no in carcere mi ricordo un titolo di un libro che poi è diventato anche un film che è Dio ha bisogno degli uomini e questo titolo mi è sempre rimasto impresso perché dico in fondo io nessuno di noi l'ha visto eppure per molti di noi la vita è segnata da questo incontro e da questa certezza ecco anche in questa vicenda di Zef è impressionante come l'ha già accennato col compagno chiamiamolo compagno di Cella Concellino ecco come si dice però ci sono stati poi degli incontri che hanno via via segnato fortemente il tuo cammino e il tuo cambiamento arrivando fino a Don Roberto ecco cioè ci sono stati tanti incontri ma oggi direi parliamo magari anche di quella propensione tua di quella preparazione di cui hai parlato hai detto questo qui mi ha dato questa prospettiva questo Concellino questa prospettiva di bene talmente grande ma anche di fronte a questa io non ero preparato ti ricordo hai detto così ecco qui invece quando tu hai incontrato Don Roberto avevi già fatto degli incontri facci un accendo così gustiamo poi il racconto seguendo ok adesso lo racconto se fosse stato solo il primo incontro di questo ragazzo noi lo chiamiamo caso sì c'è stato un caso un amico mi disse una volta guarda per quelli non credenti caso è il secondo nome di Dio chi ci crede lo chiama Dio chi non ci crede lo chiama caso quindi è il secondo nome di Dio perché nulla accade per caso tutto accade perché mi porto nel carcere di Bergamo di Como cominciai a fare quello che facevo risse casini perché il mio cuore si ribellava a una violenza così perché mi stava dicendo non sei fatto quella roba lì finché un giorno un amico mi dice fai una domandina una richiesta al direttore entra a far parte di un luogo che si chiama Centro Stampa si paragrafica pubblicitaria al computer io feci questa domandina due giorni dopo ero lì e lì c'è una volontaria che dopo un po' dopo un mese o due siamo entrati in confidenza siamo diventati amici e ci racconta un po' la sua vita i suoi fallimenti e mi son detto bene questa è falita io sono falito lei è felice io sono triste c'è qualcosa che non va io vorrei essere contento vorrei essere felice vorrei essere lieto vorrei capire cosa ha incontrato lei per poter essere così a un certo punto le domando e lei mi racconta questa volontaria un po' la sua vita e mi dice bisogna seguire nella vita chiedo come come seguire io sono stato sempre inseguito ma dalle forze dell'ordine e lei mi dice bene ti do un libro da leggere io dico bene dammi sto libro il tempo ce l'ho e mi diede un libro più o meno un pelino più grosso di questo appena lo vedi così dico va bene sarà piccolo e facile libro che poi mi ha messo nei casini della vita ma nei casini meravigliosi era il senso religioso di Don Luigi Giussani io appena l'ho preso in mano lo buttai quasi per terra ho detto di un prete non voglio ne sapere niente di quel che ha scritto sarà anche intelligente ma non mi interessa senso religioso non mi interessa ma la cosa strana è che poi Cristo ti prende per affezione non ti prende per per una per un dibattito o perché ti fa una lezione una predica no ti prende per affezione questo volontario mi dice Zerpene so che non lo leggerai mai ma farlo per me poi ti se ne frega buttalo via farlo per me dico va bene per l'affezione che che avevo con lei ho preso questo libro dopo un paio di settimane cominciai a leggere non si capiva niente le prime 15 o 20 pagine a un certo punto leggo una parola a me cara libertà dico eh no adesso questo tizio io non lo conoscevo non sapevo neanche chi era Don Giussani ho detto adesso non si deve permettere era anche morto non si deve permettere questa persona di dire a me cosa è la libertà io sono in carcere io ho perso la libertà io posso raccontarlo lui no sarà intelligenza sarà quel che vogliamo ma non può dire una roba del genere ho letto quel libro una volta due tre sette volte di fila perché volevo avere ragione io ma quando mai vinse lui 3 a 0 a tavolino vinse lui perché la libertà lo racconto sempre quello che intendevo io non era solo fare quel che mi pare piace ma era proprio di non avere legami staccarmi da tutto e da tutti invece Giussani diceva che la libertà vera è un'affezione a qualcuno un'appartenenza quando appartieni a qualcuno tu sei libero tu sei tutto il mondo è tuo solo perché ti senti amato e di conseguenza tu cominci ad amare questa roba qua mi sconvolse che scendo al centro stampa dopo un po' di tempo e chiesi altri libri di Giussani e ne avrò letto più di 150 con tutti quelli che parlano di lui ma non solo di Giussani è tutto e questo è stato il primo incontro che poi è seguito con il secondo e poi ti passo la parola racconto sto fatto qua che noi abbiamo cominciato un po' a fare un incontro insieme in carcere con i ragazzi che noi chiamiamo la scuola di comunità leggendo i testi di Giussani o qualsiasi test un po' importante che abbia da dire qualcosa e lo paragonavo con la nostra vita e mi ricordo che il 5 maggio noi avevamo l'incontro ed era morta la mamma di questa volontaria qua e sapevo già che questo incontro non si faceva perché siccome c'è il funerale potevamo anche spostare l'incontro invece la sorpresa ancora di una volta per dirmi che non ti ho abbandonato e per dirmi che io ho vinto anche la morte l'incontro si è fatto questo amico che ci guidava viene lì e dico Alessandro ma sai che è morta la mamma della vostra volontaria dice lo so ma è proprio lei che mi ha detto va dai miei ragazzi non lasciarli soli a me sta roba qua mi ha colpito non per la bravura sua perché lei è come me pieni di limiti pieni di ma perché aveva capito una cosa che Cristo aveva vinto anche la morte a me questa roba qua mi interessava perché nella vita sono un po' riuscito dico sempre giudici quando ci sono no speriamo di no e sono riuscito a corrompere qualche giudice avvocato tante anche tante persone tranne due cose il mio cuore e la morte che ci devo fare i conti a me questo mi interessava perché questa volontaria aveva capito che la morte non poteva avere l'ultima parola sulla vita quindi la vita vinceva e questo è stato proprio il punto dell'incontro ecco prendo qualche riga della prefazione fatta dal nostro vescovo cardinale Oscar Cantoni per fare il passaggio all'incontro con Don Malgesini che è in fondo il fulcro del libro il vescovo dice leggendo le pagine di questo libro si viene accompagnati dolcemente per i sentieri di una vita percorrendo dall'inferno del peccato e salendo al paradiso della grazia di Dio come nella divina come poi prosegue e più avanti dice e piano piano ti chiedi chi è stato per te lo sguardo di Patrizia la volontaria che ha citato o la costanza di Alessandro soprattutto chi chiedi chi è stato per te quindi per ognuno di noi chi è stato per te quegli occhi le mani di Dio e ti auguri di poter incontrare anche tu una guida sicura un riferimento solido che profumi di Dio Don Roberto è stato questo per tutta la vita il profumo fragrante dell'amore di Dio ecco è questo che è accaduto a te e quindi questo ha dato un ulteriore passo alla tua esistenza sì perché come dicevo prima io arrivo da una famiglia cattolica cristiana ma fino negli anni 90 era impossibile praticare ognuno la sua religione cattolica cattolici musulmani era proprio vietato per la dittatura vi ricordo che nel 91 io sono dell'83 ero un ragazzino ci andai per la prima volta al catechismo ci andai al catechismo un po' ci obbligavano da bambini devi andare va bene era appena tra virgolette morta la dittatura si stava sperimentando una così diciamo democrazia che poi non era tale ma almeno poteva ognuno vivere la propria religione e questo prete anziano poverino aveva scontato 28 anni di carcere ma non perché aveva fatto qualcosa perché era un prete perché raccontava la verità e la verità noi uomini non solo il comunismo perché il nostro dittatore voleva essere lui il dio della situazione ma noi uomini in generale la verità da 2000 anni questa parte l'abbiamo sempre uccisa e quindi lui voleva uccidere quella verità quella che raccontavano i preti e quindi li metteva in carcere su 200 preti 170 li ha fucilati e altri 25 stavano aspettando il giorno dell'esecuzione poi nel 90 nell'89 cade il muro di Berlino questo qua si trova libero e comincia a fare quello che ha sempre fatto prete mi ricordo che e ripeto che Dio ti prende per affezione ci andai sempre a questo catechismo tanto ci affascinavo con una storia di un signore Gesù Cristo che era risorto non l'avevo mai sentito sarà vero ci andiamo e la seconda cosa è che c'era una ragazzina che mi piaceva è solo che ero poco intelligente e tale sono rimasto andavo in classe c'era una classe dove ci faceva il catechismo io mi mettevo il primo banco lei all'ultimo mi giravo sempre per guardarlo tutte le volte che mi giravo mi prendevo un regiello in testa dal prete una volta due o tre poi mi sono detto io non ci vado più se Cristo è questo non mi interessa non voglio più avere a che fare con i preti con la chiesa con Cristo non mi interessa quando ci andrò da lui farò i conti con lui e quindi mi ero un po' allontanato l'incontro con Don Roberto se non avessi fatto il primo incontro con questa volontaria che dicevo prima con un'affezione non l'avrei neanche guardato Don Roberto però siccome io avevo quella domanda quel desiderio nel cuore con la ferita anche in un momento molto critico della mia vita entra Don Roberto in carcere me lo presenta padre Giovanni Milani era il capellano del carcere il primo impatto con Don Roberto è stato strano padre Giovanni mi dice Zef ti presento un amico i preti lì si incontrano in sala avvocati in carcere quindi ti chiama sala avvocati scendici o l'avvocato o una volontaria o il prete scendo vedo Don Roberto padre Giovanni con lui aveva un rapporto diverso potevo scherzare con lui infatti per esempio un amico guardo Don Roberto mi sembrava uno di noi cioè un carcerato e gli ho chiesto ma quando ti hanno arrestato? in realtà sono appena entrato ah ti hanno preso adesso e padre Giovanni rideva e mi fa no no io dalla timidezza che aveva non mi dice neanche che è un prete dice guarda che io aiuto padre Giovanni ah bene faccio un volontario non mi rispose mi risponde padre Giovanni no no è un prete di quelli che ti stanno sulle scatole a te e quindi da lì è cominciata un'amicizia veramente pazzesca che poi pian piano vi raccolto qualche fatto ecco questa misericordia di Dio di cui avevi parlato prima continua a darti dei segni io vi chiederei subito che cosa perché il tuo rapporto con Don Malgesini è stato abbastanza particolare nel senso che il libro poi constaterà che Don Malgesini era una figura proprio sottilissima e già accennato al fatto che l'avevi scambiato non solo per uno qualunque ma anche per un carcerato cioè non come dire non si proponeva mai ma ascoltava moltissimo era come l'accoglienza in persona eppure questa accoglienza faceva sì che tu ti rendessi conto di una ricchezza ancora da scoprire cioè lui ti comunicava Gesù Cristo tu l'hai detto tante volte ma te lo comunicava senza parole quasi diciamo non so attraverso un dialogo che toccava delle corne particolari per cui tu ti rendevi conto che c'era qualcuno attraverso di lui che ti stava parlando cioè il profumo di Dio che dice il Vescovo non è solo un'immagine poetica è proprio il dire sono contagiato raggiunto da una presenza che non è semplicemente quella di un uomo saggio di uno che mi sa dare consigli un giorno dicevi in carcere facilmente siamo bersagliati da persone che vogliono redimerci vogliono darci consigli insegnarci tante cose che noi non sappiamo ecco com'è stato questo lavoro con Don Roberto ma non solo in carcere anche fuori io dico sempre se dovessi andare a Milano Centrale prendo Milano Centrale perché c'è tanta gente che gira che va e vieni e dovessi intervistare cento persone cosa devo fare io per migliorare la mia vita o come devo vivere dammi un consiglio tutti tutti ma nessuno escluso mi darebbero la risposta giusta a quello che devo fare e dei consigli giusti ma nessuno di questi è disposto a stare con me nella mia miseria ad accompagnarmi Don Roberto era uno di questi non è che ti dava un consiglio cosa devi fare tu per venire fuori dalla serva oscura quello che dico nel inizio del libro citando Dante Don Roberto ti vedeva che eri quel sedere per te e si sedeva con te e ti diceva quando hai voglia tu di alzarti io mi alzo con te non ti trascino perché noi spesso lo facciamo quando vediamo dei amici in difficoltà ti diamo una mano lo trascino ma per il bene che li vuoi il bene che li vuoi li vuoi portare con te invece lui dice no io sto lì con te mi siedo ti vedo nella misera sto io nella tua misera stiamo insieme quando tu hai voglia e il desiderio di alzarti ci alziamo insieme e sono poche le persone sono poche le persone che fanno questo e mi ricordo che Don Roberto spesso prendevo il sì di Giusani il sì di Pietro commentato da Giusani e 4-5 pagine e quante volte l'ho letto con Don Roberto e si stupiva e mi diceva grazie io sono un carcerato mi dice grazie un prete ma ti pare che non sa cos'è il sì di Pietro sia commentato da Giusani o non perché lo sa commentare anche lui un prete e mi ricordo che allora mezzogiorno o meno 5 dovevo uscire perché andavano a mangiare quante volte Don Roberto adesso mi perdona è rimasto senza mangiare stavo insieme 4-5 ore a parlare al senso religioso ma tutto perché lui era interessato della vita e alla fine quando usciva per rispondere anche alla tua domanda invece di ringraziarlo io era lui a ringraziarmi perché diceva mi hai confessato io te ma ti rendi conto quello che stai dicendo grazie perché avevo bisogno di te avevo bisogno di un abbraccio avevo bisogno che qualcuno me lo ripetesse il sì di Pietro ma anche scritto come l'ha scritto Giusani mi interessa perché poi io lo attaccavo dicevo io sono di Ciel e tu dice io non sono di Ciel però tu e Giusani mi interessate quindi faceva sempre anche delle battute con Don Roberto e un'altra volta per vedere la grandezza di Don Roberto stavamo facendo via Crucis e in carcere non è che ci sono le stazioni per cui si può fare come fuori c'è il campo sportivo vi giravamo intorno e ogni dieci metri ci fermavamo facevamo una stazione poi la seconda e via vi circo padre Giovanni ci dice guarda ogni stazione dovete cambiare la croce adesso lo porta uno poi un'altra sempre carcerati tocca a me mi chiama Zef mi fa il segno vado per prendere la croce e dico a Don Roberto ma io non sono degno di portare questa croce qua e mi dice vai 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 poi ti racconto tu vai te la chiesto vai vado faccio la mia stazione cambio tutto finisce via Crucis io mi ero anche dimenticato di quel che gli avevo detto viene lui mi cerca e mi dice mi puoi ripetere per favore quel che hai detto faccio cosa l'avevo dimenticato mi dice ma come mai come ti permette di dire che non sei degno ah faccio quella roba che ti avevo detto prima e si perché io sono pieno di limiti pieno di peccati cioè sono uno che ha fallito mille volte sono un disastro mi fa forse sarei anche un disastro però Gesù secondo Deva cosa voleva a quell'istante mentre stava portando la croce sappiamo tutti fa che se voleva poteva anche non salire su quella croce quindi questo lo sappiamo cosa voleva visto che aveva deciso di portare la croce una cosa voleva che i suoi amici stessero con lui ma c'erano nessuno tranne Giovanni che lo seguiva con lo sguardo da lontano ma vicino nessuno quindi Gesù avrebbe voluto questo che ci fossero i suoi amici tu oggi sei il suo amico e quando ci andrò da lui visto che ho qualche anno più di te quindi vado prima di te da lui quando ci andrò da lui dico che io ho visto gente che portava la croce perché ho visto te questa roba qua mi commossa all'istante perché detto da lui in un modo vero semplice umano senza fare troppe troppa filosofia semplice e con questo mi stava dicendo che tu Zef sei amato lui ti ama non gli interessa il male che hai fatto o meglio non è che ti dice bravo ma lui ti ha raggiunto attraverso quel male lì ha scelto lui la sua strada neanche nel male ti ha abbandonato e è venuto sempre a trovarmi grazie perché il passaggio che ci dicevi è fra noi che facilmente diciamo cerchiamo a volte di sostenerci nel cammino nel cammino della vita di aiutarci con dei consigli passando ad altri magari anche una nostra esperienza non ci rendiamo sempre conto che quello che più di cui più abbiamo bisogno è una presenza lo stare lo stare il fatto che un altro stia con noi la condivisione infatti Sonia prima diceva che in questo gesto del banco di solidarietà in questa compagnia alle persone lo slogan chiamiamolo è condividere i bisogni per condividere il senso della vita cioè la condivisione è qualcosa che ci apre a un avvenimento che supera entrambi per esempio noi qui oggi stiamo condividendo tanti pensieri tante esperienze anche la storia nostra che magari scorre intanto che Zeff racconta la sua però succede qualcosa che è un di più rispetto a tutta la somma delle nostre parole e io ho notato conoscendo la la storia di Zeff non solo perché la la stiamo raccontando da 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 quando è scritto il libro ogni tanto facciamo questi incontri ma anche perché io ho conosciuto Zeff in carcere a dire la verità l'ho conosciuto già già posso dire la parola redento perché i carcerati non dico che abbiano una faccia truce no hanno la faccia normale però è difficile vedere una persona in carcere con un sorriso sempre diciamo con uno sguardo più che il sorriso perché non è che si sorrida sempre ma uno sguardo luminoso aperto positivo e infatti ti avevo visto subito come un po' un po' particolare no? e la cosa che mi ha anche stupito è che quando succede quando scatta questa fraternità per cui non c'è più neanche differenza fra chi cade e chi aiuta a rialzarsi perché può essere reciproca questo hai detto fra te e il don Roberto succedeva anche questo e ti ha detto grazie Zef perché mi mi hai confessato e quindi in questa in questa possibilità di amicizia la chiamiamo amicizia ma direi che è una cosa profondissima è una fraternità ecco diventa qualche cosa che si vede a occhio nudo per cui in carcere anche i tuoi compagni così come erano erano affascinati da qualcosa di diverso che cominciava a scattare a diciamo a vedersi a occhio nudo magari anche solo perché tu e un compagno avevate cominciato ad appassionarvi a certe letture ecco qua non si riesce a dire tutto ma fra parentesi vi dico che Zef in carcere leggeva volumi su volumi nel libro ci sono tanti accenni non li ha inseriti per dire ma così almeno si vede che ha un po' di cultura ma li ha inseriti perché tante esperienze raccolte in narrazioni di grandi autori da Peghi a Dostoievski maiglioni eccetera poi diventavano suoi perché sempre nell'esperienza di grandi autori o anche di persone che ci parlano quando vogliamo qualcosa che ci rispecchia che ci è utile che la facciamo nostra è successo così questo questo questa possibilità di incontrarsi in una secondo una modalità che arriva subito al cuore che arriva alle cose che contano rende anche i discorsi più banali eccezionali perché voi in fondo leggevate a volte leggevate anche le pagine di Vangelo e mentre loro leggevano ad alta voce ad alta voce fuori nel corridoio fuori dalla vostra cella si formava un capannello di detenuti che non fiatavano ascoltavano e a volte dicevano andate avanti andate avanti o sbaglio a parte che quando uno fa il suo incontro nella vita il carcere non esiste più e ho sempre detto che il carcere quando tu fai l'incontro della tua vita la cella di un carcerato diventa la cella di un monaco il monaco fa di tutto per entrare in una cella il carcerato fa di tutto pur di uscire la cella è lo stesso ma qual è il desiderio quindi quando tu fai l'incontro quando tu capisci cos'è la tua vita tu cominci non a sopravvivere ma a stravivere lì dove sei e quindi noi abbiamo cominciato a leggere il Vangelo insieme e la cella è piccolissima con due brande a volte anche quattro castello ma stavamo in piedi fino a 14 o 15 persone leggendo il Vangelo un pezzo un pezzo di Vangelo e poi ognuno diceva se li corrisponde nella sua vita o non li corrisponde e la cosa che mi ha colpito che noi non abbiamo fatto niente o almeno io non ho fatto niente sette ragazzi o otto metà di quei ragazzi lì erano musulmani ad ascoltare il Vangelo quindi è una cosa che nessuno avrebbe mai pensato se io avessi pensato adesso faccio una cosa per colpire gli altri non sarebbe mai venuto così e tanti che non potevano stare in cela e ci spiavano tra virgolette erano dietro al blindo al cancello perché volevano ascoltare e mi colpisce perché quando c'è una musica bella che corrisponde al nostro cuore noi tendiamo le orecchie non vogliamo ascoltare è la stessa cosa lì c'era la musica bella si parlava della vita si viveva non solo si parlava della vita ma si viveva ma qualcuno perché poi ci sono sempre qualcuno ciò che mi ha colpito anzi ciò che ha dato più senso a quel che facevamo noi ci sono state proprio le contraddizioni qualcuno ci chiamava i preti della Cela 105 o poi della Cela 140 perché poi avevo cambiato Cela i preti qualcuno padre Zef qualcuno don Zef quindi ho sentito di ogni all'inizio un po' mi dà un fastidio perché non sono né uno né l'altro ma sapevo bene chi gli diceva e la cosa strana che mi sono sorpreso è che se l'avessero detto dieci anni prima erano guai seri per chi l'aveva detto dieci anni dopo ci ridevo su nonostante che un po' mi dava fastidio ma Dio ha più genialità di noi di me di sicuro queste persone che dicevano una roba del genere neanche una settimana o dieci giorni venivano magari quando in Cela non c'era nessuno era da solo bussavano Zef posso entrare un attimo mi veniva da ridere sapevo già che aveva detto Don Zef o Padre Zef prego prego vieni entravano in Cela e mi raccontava la sua vita senza che io abbia chiesto nulla ora che c'ho l'amorosa o la mamma o la moglie o il figlio o l'ospedale o il covid o qualcosa del genere mi raccontava la sua sofferenza io non faccio né medico non faccio né mago non faccio né miracoli condivideva la sua vita gli raccontavo la mia stavo lì mezz'oretta a volte anche un'oretta semplicemente prendere un caffè la cosa che mi ha colpito è stato questo che entravano piegati dal dolore e uscivano pur avendo stesso dolore senza aver risolto il problema uscivano con un volto diverso dico ma cosa fa Dio ecco cosa fa ti accompagna ti alleggerisce ti fa vedere una prospettiva diversa pur lasciando la domanda perché il dolore rimaneva non faccio medico non faccio neanche miracoli ma questa cosa qua mi ha colpito perché dicevo nella mia cela Cristo c'è mi sta accompagnando perché accompagna quei ragazzi che escono da qui e quindi è un Cristo che ti diventa accompagno di cela che ti accompagna lì come si può non dirgli di sì uno che ti rende bello ti rende libero un posto che di bellezza di libertà non ne ha e questo mi ha colpito perché lo vedevo accadere nei volti magari di chi era proprio contrario di quello che facevamo noi ecco mi chiedevo questa storia questo chiacchierare oggi questa testimonianza magari va la pena di sottolineare che è qualcosa che veramente non tocca soltanto delle categorie di persone cioè noi abbiamo visto che il bisogno si manifesta a volte in modo molto acuto per dire che rimane senza mezzi a fame eccetera magari si può rivolgere al centro di solidarietà o comunque viene magari sostenuto da iniziative da opere e questo è il segno che diciamo la carità la condivisione si esprimono in maniera concreta e non è mai abbastanza dire che questi sono segni diciamo che rigenerano non soltanto perché risolvono dei problemi meno male che c'è il banco perché ma questi sono anche diciamo espressioni di una modalità di vita che risana risana tutti perché ci ricorda che il bisogno non è soltanto un di meno perché noi esseri umani siamo sempre nella nell'indigenza sempre nel bisogno quando non è materiale può essere spirituale oppure ci capita un dolore talmente forte pensiamo alle malattie alla morte che ci vede in difficoltà e la nostra società e i nostri contesti sono spesso attraversati da una sorta di sfiducia dalla paura dal fatto che abbiamo appena alle spalle speriamo la pandemia e guardiamo al futuro con una certa prensione adesso la faccio breve perché sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando andiamo incontro a un periodo difficile a questa guerra che non sappiamo ancora che che futuro come si si evolverà ecco in tutte queste cose abbiamo due strade o distrarci tirare avanti speriamo passerà oppure veramente riporci questa domanda che Zef ha più volte fatto affiorare che il bisogno richiede qualcosa di diverso prima ha detto che è l'incontro con un abbraccio è un abbraccio che ti ti porta su una landa diversa che non ti fa più solo sopravvivere come tendenzialmente tutti noi saremo ora segnati a fare che dobbiamo fare i problemi spesso sono più grandi delle nostre forze ma a vivere e in questo senso Zef diciamo il fatto che la la tua vita abbia fatto si sia imbattuta in Cristo ecco mi veniva in mente Oscar Wilde che non è un santo ma che dice felici coloro il cui cuore si spezza e si guadagnano la pace del perdono come se non attraverso un cuore spezzato Cristo Signore potrebbe irrompere ecco questo che è detto da Oscar Wilde mi ha impressionato casualmente l'ho sentita questa frase continua a essere o sbaglio anche l'esperienza di questa fase della tua vita tu sei ancora diciamo in detenzione giusto affidato come accennavi alla comunità guanelliana di Barza che ha questo nome particolare Locanda della Misericordia che è tutto già un programma e quindi per te questa coscienza e questo che volevo dire sta diventando permanente sta diventando un'esperienza quotidiana sta diventando il come dire il messaggio continuo che ti tiene insieme agli altri e che ti fa guardare il presente soprattutto ma anche il futuro ecco raccontaci questa questa fase collegata proprio a questa ricchezza di posizione perché senza quella penso che anche tu ti sentiresti ancora un po' disorientato allora intanto bisogna ringraziare la ferita perché senza ferita noi non avremo delle domande perché noi abbiamo un grande potere di domandare di chiedere invece le risposte sono un dono non è che uno pretende è un dono la ferita è proprio qualcuno diceva c'è una crepa e da lì entra un raggio di luce quindi entra un raggio di luce che illumina l'abbraccio con l'abbraccio di perdono che dicevi tu la canzone che abbiamo ascoltato da prima dice mi dicevano i tuoi occhi che ero stato perdonato perché dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia ecco io ho seguito questi occhi qua che mi dicevano più che delle parole che la vita ricomincia Zef non è perso nulla è perso quindi puoi ricominciare puoi ricominciare mille volte perché ce n'è uno che ti ama ti perdona e continua ad aspettarti e ad attenderti sempre io non è che faccio chissà che cosa per accogliere gli altri accolgo gli altri per come vengo accolto io abbraccio per come sono stato abbracciato io e amo per come sono stato amato io per come vengo amato tutti i giorni e non a caso poi me lo ricordi alla fine e sulla misericordia sulla locanda dove sono ospitato che racconterò due cose perché dicevo anche al Don Domenico cos'è la misericordia per me la misericordia la mia miseria e qualcuno ha messo il cuore più di così faccio cosa vogliamo perché il problema del carcerato o non solo del carcerato non è far uscire l'uomo dal carcere ma il carcere del cuore dell'uomo perché spesso o meglio ognuno di noi piccolo o grande il carcere dentro ce l'ha bisogna solo guardare se è grande o piccolo ma ognuno ce l'ha nel suo cuore quindi ognuno fa i conti con se stesso e quando è morto Don Roberto io ce l'avevo già ancora più grande a questo carcere perché dicevo ma è vero ma può morire lui ma cavolo ne ho fatti di ogni io e sono qui a raccontare e invece colui che cioè Don Roberto che ha fatto solo bene ha incontrato persone è morto è morto per mano di chi aiutava la storia si ripete da due mila anni in questa parte si ripete sempre e il dono più grande che faccio un passo sull'ultimo incontro di Don Roberto è stato averlo incontrato lui è morto il 15 di settembre il 13 l'ho incontrato io e dopo padre Giovanni è venuto padre Michele a sostituire padre Giovanni quel giorno padre Michele non poteva venire in carcere a celebrare la messa aveva un appuntamento e chiese a Don Roberto non potevano entrare tante persone c'era un pieno pandemia quindi un casino ricordo io con Don Roberto avevo un rapporto speciale un rapporto dove a volte lo stressavo anche dicevo anche qualche parolaccia e lui non si scandalizzava mai mi sorrideva e abbassava la testa i capelli ricci fino qua quindi io che quasi non si vedeva mi ricordo che quel giorno gli chiesi ma com'è la situazione fuori noi vedevamo solo i TG dentro non poteva aver contato né collochi niente era tutto chiuso e faccio ma com'è la situazione fuori mi fa guarda è drammatica e tu come sei messo a quel covid gli chiedo lui mi dice guarda mi dispiace un po' per i miei quando vado non riesco ad abbracciarli perché ho paura di contagiarli perché io incontro tante persone senza tette persone in giro ma per me non mi interessa chi mi ammazza a me uno ti dice una parola chi mi ammazza a me quante volte l'abbiamo detto tra amici ma sì ma chi mi ammazza a me non lasci lì e mi colpisce che lui cosa faceva faceva io facevo il chirichetto di Don Roberto e quando leggeva il Vangelo di solito si aspetta che il prete il prete faccia la predica veniva lì si sedeva c'è una panchina dietro ero io un altro ragazzo Max e Don Roberto e dice Don la predica falla tu come la faccio io sì alzati e fallo tu ma no ma non mi hai detto prima non mi sono organizzato non ho preparato niente Dio ti vuole così non voglio che tu prepari racconta di te e quante volte mi ha fatto questo scherzo qua e non potevo dire lì no mi alzavo a fare la predica quindi Don Roberto mi ha fatto anche questo ma la cosa strana è che lo salutai quel giorno e due giorni dopo arriva il mio amico che lo conosceva molto meno Don Roberto mi dice Zeff hanno ucciso padre Roberto neanche Don Roberto faccio ah cavolo mi dispiace ma chi è questo padre Roberto mi fa come chi è non lo conosce non mi viene in mente nessun padre Roberto ma come quello che ha fatto la messa domenica Don Roberto non è un padre è un don ma è impossibile si si è morto mi ha carolato il mondo addosso perché ho detto cavolo perché poi noi andiamo cosa ha fatto per meritare quella roba lì cosa ha fatto lui per meritare la morte è così però Dio mi dice Zeff cosa hai fatto tu per meritare tutta questa misericordia niente anzi tutto contrario quindi Dio ha dei metodi delle strade che io non riesco a capire il punto che per due mesi mi accorla come dicevo il mondo addosso dal dolore che non sapevo dare una risposta avevo letto c'è un libro di un'amica che è morta di Tito More che si chiama Chiara Corbella Petrillo lei aveva scritto un libro e il titolo dell'inno l'hanno scritto gli altri dopo la morte e il titolo del libro siamo nati e non moriremo mai più mi sono detto guarda che Dio parla attraverso dei volti non ha il mio numero di telefono parla attraverso dei volti il primo c'è quell'uomo lì che litigo e mi vuole abbracciare il secondo c'è questa signora che stiamo facendo la scuola di comunità ha la mamma lì deve fare il funerale e si preoccupa di me mi sta dicendo che la morte non può vincere il secondo c'è Don Roberto che mi dice chi mi ammazza me il terzo c'è il titolo del libro che dice siamo nati e non moriremo mai più porca miseria ma è vero noi abbiamo avuto la grazia di nascere e non moriremo mai più grazie Don Roberto grazie perché veramente tu vivi perché io ti vedo nelle lettere nelle testimonianze tutto ciò che mi accade ti vedo nella mia vita non ti vedo come immagino io ma tu ci sei mi è difficile capire il mistero dell'aldilà mi è difficile ma come è difficile per un bambino che è nel grembo della madre se potesse parlare non ci racconterà il bambino mai che nascerà e farà una vita no non lo sa pensa che la sua vita è lì poi fa un altro passaggio viene al mondo e vive la sua vita noi quell'altra vita non lo sappiamo ma lo vedo nella vita per cui mi sono detto cavolo io adesso mi rialzo perché è questo che vorrebbe Don Roberto che io mi rialzassi all'istante e nella mia mente nella branda arrugginita di notte mi venivano in mente tutti i nostri incontri che abbiamo fatto ovviamente noi non avevamo un videoregistratore o qualcosa del genere tutto ciò che è venuto in questo libro sono incontri e ricordi che mi vengono in mente a me abbiamo fatto questo libro qua e chiedo a Laura di trovarci un editore Laura di qua ha chiamato tutti anzi grazie a Laura che ci ha messo in contatto con Cantagali e poverino faceva dentro a fuori a portarmi le notizie perché non poteva chiamarmi al cellulare quindi ciò che gli diceva Cantagali veniva in carcere ero d'accordo non ero d'accordo io usciva contattava loro quindi un casino finito sto libro mi è venuto in mente ho detto cavolo più stavo e più mi veniva in mente altri incontri ho detto io non posso chiudere così ho scritto un altro che tra due mesi verrà fuori anche quello ma questo è di più sull'incontro con Don Roberto l'incontro che ho fatto io nella mia vita l'incontro con Cristo il secondo è più sul perdono perché come ho visto perdonare Don Roberto non ho mai visto in vita mia e di conseguenza grazie a lui ho imparato quel pochissimo a guardare a perdonare in modo un po' un po' come lui poco io eh lui più io poco grazie a te ci hai dato un'idea di cosa vuol dire Chieffo la canzone di Chieffo quando dice che eh noi siamo portati a volte a fare dei bilanci della vita e quell'inventario fatto sempre senza amore ci hai dato l'idea di come si possa parlare anche di eh fasi difficili momenti bui ma diciamo con un occhio già eh oltre la cosiddetta sfortuna il destino io sono partito perché sono nato in un paese povero eccetera eccetera quante volte noi rimestiamo nelle eh nostre situazioni personali eh continuando a a fare dei conti con quello che è andato bene quello che è andato meno bene quello che è andato bene e allora pareggiamo un po' le cose invece tu ci hai portato eh in un'altra dimensione quella che addirittura eh vince perfino la morte quindi lì saremmo proprio completamente impotenti di guardare anche al futuro del futuro noi quando diciamo la parola futuro abbiamo in mente gli anni seguenti invece si spazia ehm io direi a questo punto se eh qualcuno vuole farti una domanda sulla comunità ecco no sicuramente ci devi parlare di questo perché ha dato anche il motivo di essere qui oggi cioè della locanda della misericordia che ha che è stata diciamo suggerita e messa in piedi da un sacerdote guanelliano che è Don Domenico Scibetta niente io sono lì da cinque mesi a Barza di Ispra sul lago maggiore e la comunità Don Guanela quando dico una comunità mi sembra un po' ehm una riduzione mi sembra una famiglia a me piace di più una famiglia perché veramente c'è una condivisione e un vivere una famiglia lì sono allora Don Domenico ha accolto questa provocazione questa richiesta di Papa Francesco nel 2016 quando il Papa Francesco ha chiesto di poter accogliere di poter aiutare detenuti quando c'è stato il giubileo straordinario e c'è stato anche quello dei carcerati dove io sono stato a Roma del Papa e Don Domenico ha messo ha messo il cuore mi ha messo il cuore tutta la comunità i fratelli altri preti tutti ma veramente con un'accoglienza pazzesca dove siamo quasi dieci ragazzi nove dieci a volte anche dodici ci occupiamo a a tenere in ordine un po' la casa il parco e tutto ma soprattutto ci occupiamo a diventare grandi noi ci occupiamo a crescere il nostro cuore a capire che noi se qualcuno ci ha accolto ci ha accolto perché noi valiamo perché noi abbiamo un nome noi siamo un dono e qualcuno ci vuol bene è l'esperienza che stiamo facendo a Barza per cui è un posto meraviglioso e vi invito lì facciamo anche la la pizzeria qui potete venire la pizza la facciamo noi carcerati quindi io a marzo finisco per cui se venite prima posso aiutare il pizzaiolo a fare le pizze per cui è un posto veramente bello bello è il paradiso ho scelto due o tre titoli sul vangelo e sul percorso mio e tutto alla fine cantagali ci mandano loro questo titolo vai e prendi loro per mano arriva Laura in carcere e mi dice Zeff guarda che loro hanno scelto un titolo diverso vedi tu se non ti va bene lo togli e metti quello che hai scelto tu faccio no 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 meglio di così non si poteva perché io ho bisogno anzi è una grazia accorgersi di avere bisogno di qualcuno che ti prende per mano perché noi siamo fatti così e Don Roberto faceva questo prendeva per mano chi incontrava con la sua capacità che aveva di San Tommaso per cui è una frase una frase anche famosa però cantagali è come se avesse fatto un percorso insieme a me per poter scegliere questo quindi sono state veramente grandi in questo quindi devo ringraziare anche loro ma in primis quello che hai detto tu e Don Roberto perché se è accaduto tutto questo è di Cristo ma attraverso di Lui grazie grazie a tutti